Solamente alcune le gare disputate in questa ventunesima giornata di campionato. Fermo il torneo di Serie D, in eccellenza e promozione il clima ci ha messo lo zampino e solo pochi messinesi sono scese regolarmente in campo per 90 minuti. Partiamo come sempre dal girone B del campionato direttantistico regionale, dove Tiger e DJ Virtus hanno rispettato quasi ogni pronostico. E da proposito di Tiger, la formazione allenata da Santino Bellinvia, da buona capolista, svolta anche questa volta il proprio compitino domenicale, battendo con un resigatissimo 1-0 grazie alla rete di pettinato il mister Bianco. Tre punti preziosissimi per il primato, che permettono infatti ai gialloneri di riportare a quattro le lunghezze di vantaggio della dirimpettaia Cireale, fermata dal 2-2 a Bciclupo di Taormina. Certo è che chi non è riuscito ad approfittare di questo pareggio è stata l'Igea Virtus di Pippo Perdigucci, piegata proprio al dal Contres dal Siracusa di mister Strano. Due reti in saccoccia con l'aggravante della pena, 4 espulsi, Danna, 4 occhi, Isgro e Triolo. Igea che comunque rimane ancorata al terzo posto della graduatoria, ovviamente solo mantenendo i nervi saldi. E dopo una vittoria, quella della Tiger, ed una sconfitta, quella egeana, mancava solo il pareggio ed eccolo che si presenta al nuovo comunale. Dopo i tre punti di sette giorni fa in casa del fanalino di Coda San Sebastiano, il Rocca, unica messinese del raggruppamento occidentale, non è riuscito a fare un plane, ritornando a casa, si fa per dire, solamente con il risultato, equamente diviso con la formazione ospite, l'ostico San Giovanni Gemini. Poche invece le gare disputate nel girone B di promozione, dove Taormina, Castelbuono e Città di Milazzo restano al comando rispettivamente con 42 e 40 punti. Dopo la vittoria nel recupero di mercoledì contro il Castelbuono di Ciccionardi, i milazzesi hanno conquistato l'intera posta in palio, schiacciando con un roboante 5-0 i messinesi del Riviera Nord. Ma attenzione, chissà se questo polifemo non calpesti a breve anche le due primatiste.